Allora, innanzitutto questa sera l'abbiamo detto, DJ on stage, prima abbiamo sentito con la pesce e di Martino e poi ovviamente questa sera, dico ovviamente perché non vedo l'ora di sentirla dal vivo, ma dal vivo anche qui in studio, Francesca Michelin. Ciao Francesca! Ciao, ciao a tutti e a tutte! Allora, come stai innanzitutto? Bene. E questa è una domanda che recentemente è tutto, un come stai, però un come stai vero in alcuni casi, come lo stai vivendo questo periodo? È un periodo particolare, allora bello perché sono in tour e quindi rivedere le persone finalmente, non attraverso un telefono, ma proprio dal vivo, è fighissimo, però comunque è una situazione un po' alienante, devo dire, cioè sono un po' alienata da questa pandemia, però... Però si va avanti, anzitutto sei tra le persone che, insomma, tra gli artisti che non si è fermata, no, in questi ultimi mesi, la Sanremo, comunque è stata una grande occasione anche per tornare a portare la tua musica, la vostra musica in quel caso, a tantissime persone, probabilmente è stata utile. Ti dico, in tanti ti stanno aspettando questa sera, io lo capisco quando arrivano su Instagram i messaggi per chiedere, ma allora come si può entrare, come si fa a vedere, eccetera, quindi questa sera in Piazzale Roma ci sarà ovviamente un sacco di gente anche ad aspettarti. Come sono andate? Adesso hai fatto qualche data già, no? Si, 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 ci siamo Meta Tour, adesso guarda, stasera suono, però di base riprendiamo il 22 agosto, abbiamo fatto tutta la prima parte, ed è stato fico, veramente bello. E questo è un grande effetto, allora io non so se posso dire questa cosa fuori onda, stavamo chiacchierando, perché c'è questo momento Olimpiadi che sta un po' coinvolgendo e travolgendo tutti, perché stavamo dicendo, siamo rimasti, inizio puntata dicevo, solo io e Maurino, la Stellina, eccetera, a non avere delle mesi, taglie perché ne stiamo vincendo un sacco ultimamente e anche tu sei rimasta particolarmente colpita da queste Olimpiadi allora sì, il momento delle Olimpiadi è il mio preferito e quindi l'anno scorso è stata dura aspettare cioè tu infatti eri tra quelle che attendeva? Eh sì, ma poi io soprattutto attendevo Vanessa Ferrari perché lei insomma con le Olimpiadi è stata parecchio sfortunata, ha avuto un sacco di infortuni quindi questo argento insomma mi ha emozionato parecchio ma anche il ciclismo su pista, io sai che riguardo tutti i giorni la telecronaca del ciclismo quanto gasa quella telecronaca lì? gasa un casino San Pippo Ganna frasi memorabili ne sai un sacco, anche perché hai un passato da ginnasta sì, ho passato da ginnasta però dopo veramente mi sono trovata alle superiori che dovevo scegliere tra musica e sport e ho scelto musica. Tu pensa, chissà sei quei what if, tra poco uscirà una serie di una serie di cartoni animati eccetera che si chiama what if della Marvel che ti spiegano insomma ti dicono quel supereroe come sarebbe stato se c'è tutto un altro mondo chissà come sarebbe stata le slide indoors però devo dire che è andata bene così nel senso sta andando alla alla grandissima meglio meglio così va che con la ginnasta non ero molto brava quindi meglio così ragazzi qua in acqua fan è un peccato che sono andati via tutti perché le sei e mezza qua chiude però prima c'è stata una il termine tecnico è una ruota ma ruota è proprio il termine tecnico una ruota di Francesca Micheline ci ascoltiamo invece intanto una tua canzone e torniamo un po' indietro nel tempo ed è una canzone che ancora oggi è fortissima non è che si hanno passati tantissimi anni però ha nessun grado di separazione la prima volta che mi capita nessun grado di separazione la voce è quella di Francesca Micheline che è qui con noi live anche dagli studi di acqua fan qui a Riccione insomma Francesca vabbè sentire questa canzone fa sempre un po' effetto perché poi la musica ti fa anche tornare indietro nel tempo cioè al di là del mondo che è un po' cambiato tu come sei cambiata un po' da questa canzone? beh tanto anche se ti dico ho anche un po' di nostalgia di quei momenti perché quando sei giovane vivi un'esperienza così forte come quella di Sanremo non lo so è la tua prima volta boh è stata una cosa molto forte sono andata all'Eurovision sì è vero ho fatto la mia prima tournée quell'anno quindi tante cose belle adesso però credo di avere una consapevolezza diversa e di cantare anche meglio sai qual è il problema? che questo pazzo è bello ma è cantato malissimo ma no ma come? c'è autocritica così no vabbè penso di essere migliorata a cantare quello insomma è giusto nel senso che molti poi quando riguardano le proprie cose del passato hanno una una vena magari critica è anche quello un buon segno sono passati poi un po' un po' di anni è vero che avevi fatto l'Eurovision poi con quella con quella canzone com'è quel mondo lì dell'Eurovision quest'anno l'abbiamo vissuto poi con i con i Mane Skin però io l'ho vissuto tanto con quel film tu l'hai visto quel film di Will Ferrell? è così Eurovision si chiama se non l'avete mai visto andate su Netflix e guardatelo perché fa è proprio così fa molto ridere è così proprio uguale perché è tutta una situazione un po' palpa da un certo punto di vista molto colorata con esibizioni incredibili tu l'hai vissuta da dentro nel backstage io secondo me ero troppo forse sobria per un evento del genere forse qualche pailletti in più avresti dovuto sì ma forse anche il fatto che comunque ho fatto un pezzo che aveva un significato molto eurovisivo però magari era difficile da capire proprio forse per la lingua o per altre cose però è stato figo perché vedi un sacco di persone diverse viaggi tantissimo io l'ho trovata un'esperienza bellissima proprio da fan dell'Eurovision mi è piaciuta particolarmente la tua storia in realtà è particolare anche perché sei cresciuta artisticamente parlando poi penso non solo proprio davanti e sotto un po' ai riflettori nel senso che tu hai partecipato a X Factor e tutto quando eri molto piccola insomma le persone ti hanno visto sostanzialmente crescere c'è qualcuno molto affezionato sicuramente tantissimi fan però c'è qualcuno in particolare che proprio dall'inizio ti segue con grande affetto e tu questa cosa la riconosci sì sì ci sono delle persone che mi seguono dall'inizio quasi con tanto affetto tanto investimento anche certo perché ci sono tipo persone che vengono a tantissime date del tour certo che prendono tutti i dischi le versioni speciali non lo so è preziosa questa cosa è preziosa anche perché spesso sali sul palco e ti senti un po' spesato anche perché l'emozione è sempre nuova anche se magari fai questo lavoro da un po' e vedere le persone che ormai associ un po' alla tua famiglia che ti vengono che poi ci hanno creduto quel concetto dell'averci creduto fin dall'inizio che credo per voi sia veramente importante un'ultima cosa perché insomma ti seguo sui social principalmente su Twitter a me fai molto ridere cioè c'hai proprio la battuta precisa nel momento giusto quella è tutta roba tua no? cioè tu sei lì pronta tac no io mi autogestisco sì certo Twitter è stato il primo social che mi sono fatta ok in prima superiore in seconda superiore poi l'ho mollato perché ero entrata in Exatra l'ho ripreso subito dopo ok e ricordo che non capivo come si usava quindi twittavo un sacco di cose senza senso ma si mi diverte è un luogo molto violento secondo me forse è troppo però può anche essere molto divertente se lo sai usare bene se ti sai proteggere e se segui le persone giuste poi non le mando a dire spesso rispondo apro i dibattiti mi incazza però sappiate che se vi capita di incazzarvi con l'account di Francesca Michelin è proprio lei già è lei che si incazza davvero quindi questa cosa vale doppio Francesca io ti ringrazio per essere passata di qui oggi purtroppo non riusciamo a fare un bagno perché è chiuso ma poi questa sera comunque è il concerto non vorrei che prendi aria esatto ci vediamo questa sera in Piazza della Roma DJ On Stage Francesca Michelin grazie ancora per essere passata qui a DJ grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti